Dunque, le cose stanno così. Fra qualche settimana sarete tutti bocciati. Siete la classe dei senza speranza. In sala professori non si dice altro. Con voi posso fare quello che voglio, non frega a nessuno. Siete solo feccia. Adesso bocca chiusa e culo sulla sedia fino alla fine dell'ora. Scusa. Per caso hai un gessetto? No, ma che ne so. Una tua alunna, piange. Chantal. Hai rotto il cazzo. È possibile che non te ne importi niente? Ma di cosa? Di avere il loro rispetto. Non hai niente da fare? Lavoretti con la pasta di pane? Quello che fai qui non ha nessun valore educativo. Sembrano traumatizzati. Fammi vedere che cosa hanno in faccia. Si sono sporcati facendo le targhette con i nomi. Adesso fai il favore, sparisci. Falla brava. Guarda che so mettermi benissimo nei panni dei ragazzi. Non credo tu abbia molte speranze con quella bocca a culo di gallina. Ridete alle vostre ribattute. Penso che dovresti farti curare. Scusate, di solito non batto. Sbatto! Scusate! Grazie! S sourisato! Scusate! 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 Grazie a tutti.